Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il famoso tronista e celebre volto di Canale 5 è stato ricoverato in ospedale. Questo ha generato un'ondata di preoccupazione tra i suoi fan che vogliono sapere cosa è successo e ora come sta. Stiamo parlando di Andrea Cerioli. Nonostante la situazione sia stata rassicurante, la salute di Andrea ha suscitato l'attenzione di molti, soprattutto considerando il delicato periodo che sta vivendo insieme alla compagna Arianna Cirincione, in attesa del loro primo figlio. La pressione e il forte stress che accompagnano l'attesa del nuovo arrivo sembrano aver avuto un impatto sulla salute del futuro padre. La notizia dell'ospedalizzazione di Andrea Cerioli ha innescato un'ondata di preoccupazione e affetto da parte dei suoi numerosi fan. La consapevolezza dell'imminente ruolo di genitore che attende Andrea, insieme alla sua compagna Arianna, ha suscitato un senso di vicinanza e sostegno da parte dei sostenitori, convinti che la coppia saprà superare le sfide che si presentano loro, dimostrando di essere genitori amorevoli e attenti. L'ex tronista ha condiviso il suo stato di salute con i fan tramite i social media, con un chiaro intento di rassicurare tutti coloro che si preoccupavano per lui. Grazie a tutti! Grazie a tutti!